Buongiorno signor Imbro Buongiorno a tutti Oggi è solo? Oggi sono solo perchè la mia cinza mi ha abbandonato Incidente stradale Poverina, che gli è successo? Morta Ma morta come? Schiacciata E sono scontrati due betoniere La macchina è alciata In cerca di un'altra cinzia Speriamo di trovarla E' difficile E' carina come quella Cosa ci propone oggi? Signor Imbro Vedo che... Il suo atelier Questo non è il mio atelier Io vendo per conto delle sole e le bandiere Dai vediamo i capi Allora abbiamo il primo capo della giornata Abbiamo Il classico capo Che capo è? E' un capo per lutto Per lutto Ah ha dato Dovrei metterlo anche io perchè è morta la mia La cinzia La cinzia è morta Comunque Questo 850 euro 850 euro? Si, follie Guardi la marca Cioè è da follie metterselo Ma è da follie non comprare Dai Abbiamo il secondo capo Per l'estate Ecco qua Per l'estate E vabbè insomma Un po' presto eh 300 euro Ma abbiamo uno stock vario o sono pochi pezzi? Si 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 Abbiamo anche questo Questo maglione da uomo adulto Adulto? Ho messo in lavazzia di 100 gradi E E Eh Ma è per puffo questo Una bella dolce vita ragazzi eh Ah Questo 300 euro 300 euro Non ha detto quello di prima Quello con i fiori No abbiamo anche questo al capo Per l'inverno Col cuffiotto Col cuffiotto Questo parte da 1.500 Si questo è adatto quando c'è vento Avendo lo sconto del 50% Ve lo diamo a 750 Ah sta facendo i saldi signor Libro Il 750 questo Per l'inverno Perfetto Poi abbiamo la cosa proprio Il fiorfiore della Il club Si infatti lì ci ho abituato insomma Dalle Madonna per la discoteca Eeeee Eccolo qua Con questo farete follire Ma non è possibile Guardi eh Il taschino Ah c'è anche il porta sigarette Si si Bellissimo eh Questo è già un abito Il prezzo Signor Libro E questo parte dai 2.000 euro Però essendo lo sconto del 50% Ah ecco è vero Lo lasciamo a 1.000 euro Perfetto Ecco poi abbiamo Per i lavoratori anche Abbiamo l'atelier delle storie delle bandiere Ah ecco E' vario E' proprio uomo donna bambino Questo è il classico La classica carottiera Da scaricatore Ma è sporca Difatti E' già sporca Quindi non devi lavarla Ah ecco E' proprio Bella 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 Questo è il valore Questa la regaliamo con La magliettina per andare a pescare E' eccola qua 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 E' che ti manca la manica E' eccola qua E' eccola qua E' eccola qua E' eccola qua Il porto La canocchiera Perfetto Quanti pezzi ne ha di quello Scusi signor Limbro L'unico E' l'unico E' l'unico No 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 Fatti Poi se Male andando Voi andate a pescare Al posto di perdere questo bravo E' prendere Girate la maglietta E' ehm Signor Limbro Mi dispiace per Cinzia Perché ci sono stati molti telespettatori Che Insomma hanno dato dei bei giudizi Sulla Le dirò Forse è nata al meglio così E' guardi Dunque Stiamo Stiamo sempre in cerca Di qualche ragazza E' a chi doveva telefonare Signor Limbro Ah ecco E' al numero verde Al numero verde E' il porto giallo di male dovremmo trovare qualcosa va bene signor Ibro io la ringrazio perché con lei è sempre un piacere ci accontentiamo anche di un cane tipo un Yorkshire con Zec fa bene lo stesso purché sia bionda arrivederci signor Ibro mi raccomando la nostra serietà non ha confini